È assurdo, vero? Già, si tratta di tua madre. E del tuo capo, che tu detesti. È strano. Mamma! Zara! Zara, guardami. Se mi senti, dimmi per quale film ho vinto il Teen Choice Award. Ok. È vigile. Ho perso un po' la testa. Mi hai concesso, no? Ti aspetto da tutta la vita. È una battuta del tuo film? Sì. Questa situazione non fa che peggiorare. Sono la sua assistente da due anni. Lo conosco molto bene. È così preso da se stesso, così egoista. Hai messo la mia chatouche in una busta di plastica insieme alle snickering fangate. È un pezzo unico, Zara. E io ne ho soltanto due. Di sicuro la farà soffrire. E io dovrò ucciderlo. Mi fa paura. È il momento di chiederti chi ero prima di essere tutto per tutti gli altri. Fai così quando vuoi scambiare due chiacchiere a cena? Ti vesti così per scambiare due chiacchiere a cena? È così facile parlare con te. Che mi sta succedendo? Credo sia perché cerco di fare colpo e non ce riesco. Questa cosa con mia madre e queste scopatine devono finire! Ciao, Chris. Ciao. Ci vediamo. Non siete Jack e Rose fuori da questa macchina! Io adoro essere tua madre e la cosa che amo di più al mondo. Ma sto provando cose che non credevo che avrei mai più provato nella vita. Non da quando tuo padre... Cosa? No! Non ci credo che l'hai detto! Ma è che non vorrei vederla soffrire. È mia madre. Tua madre... è anche una donna. È la sua vita. A che servo se non riesco a convincere mia nipote a far venire il moro più sexy di BuzzFeed per Natale? Non lo vuoi per me, ma per te! Non lo vuoi per me, ma per te! Non lo vuoi per me, ma per te!